ciao a tutti volevo fare un altro video sempre riferito alla petizione chiedendovi di firmare perché più saremo e meglio sarà ieri tra l'altro un utente un amico luca ha postato il link della petizione su un gruppo facebook internazionale e ha commentato per jensen che sarebbe il master blender di mac battle quindi la voce è già arrivata sta circolando sta a noi raggiungere il numero maggiore di adesioni quindi sta a noi decidere se come fumatori italiani siamo interessati o meno in molti però mi hanno fatto anche sapere che change.org è un po' confusionario perché oltre a chiedere poi di firmare quindi vi chiede l'email nel passaggio successivo chiede una donazione allora ci vengo a chiedere quella donazione non è stata richiesta da me quei soldi non finiscono nelle mie tasche in nessun modo lo fa di default change.org il modo in cui si finanziano per adesso faccio un breve tutorial in cui vi faccio vedere come si fa perché se poi andate in basso dopo che avete messo la firma l'email serve per confermare la vostra firma in basso trovate proprio ignora e vai avanti quindi salta questo passaggio quindi potete tranquillamente saltare il passaggio perché non è richiesta nessuna donazione per la causa assolutamente gratuita e un'impostazione di change.org adesso provo a fare un video registrandolo sul telefono in cui provo a mettere una firma e vi faccio vedere come fare. Allora cliccando sul link che trovate nella descrizione vi apparirà la pagina della petizione se volete scrollando in basso troverete il testo della lettera che ho scritto indirizzato sia a Ita che McBaren sia in italiano che in inglese oppure potete semplicemente pigiare il bottone rosso firma questa petizione a quel punto vi saranno richiesti i vostri dati nome cognome un'email e poi una città come riferimento quindi io metto il mio nome metto l'email quella del canale il pipatore in america chiocciolagmail.com che è già quella che trovate sempre in descrizione dopodiché metto una città a casa un milano la mia città è un cap di milano in questo caso è solo una dimostrazione per fare il video dopodiché potete scegliere se iscrivervi alla newsletter di change.org sia o no totalmente libera e poi sotto potete scegliere se mostrate o meno la vostra sottoscrizione in pubblico dopodiché premete sul pulsante rosso e nella schermata successiva c'è il tanto discusso sostegno economico che ripeto non è richiesto da me Claudio ma è richiesto da change.org voi potete tranquillamente ignorare la cosa perché ripeto questa petizione è totalmente gratuita quindi scrollando in basso trovate mi dispiace non posso fare altro cliccate lì e andate avanti a questo punto nella pagina successiva change.org vi chiederà se volete condividere la petizione sui vari social media e lì se volete potete usare quella opzione oppure scrivere mi dispiace non posso fare altro. grazie ancora per chi sta aderendo cerchiamo di essere il più possibile ringrazio anche gli altri youtuber che hanno voluto partecipare Alessio Moreno Aldo Maurizio per aver condiviso l'iniziativa sul forum compagnia del tabacco e veramente l'unione fa la forza cerchiamo di farci. grazie a tutti grazie a tutti